Con la spending review mancano 3 milioni di euro, per questo la provincia valuta la vendita delle azioni di Centro Padane. Si è deciso oggi alla seduta del Consiglio sulla variazione di bilancio. La pratica è passata con il no dell'opposizione. L'ultima risorsa di un certo valore rimasta è la partecipazione dell'autostale di Centro Padane. Oggi non si è decisa la vendita. Oggi si è dato mandato agli uffici di sottoporre a un prossimo Consiglio Provinciale uno schema di delibera che possa prevedere quantità, tempi, modi e termini di vendita delle azioni di Centro Padane. Ricordo che gli altri enti pubblici che hanno una partecipazione in Centro Padane stanno valutando la stessa cosa proprio per questi stringenti vincoli dovuti al patto di stabilità e ai tagli legati al spending review. È una proposta che non ha previsto per esempio un'audizione di Centro Padane per verificare lo stato della società in questo momento. E poi non si può infilare una proposta di cessione di una società come questa che è la più importante, la più importante partecipata dalla provincia di Piacenza in una variazione di bilancio a fine luglio. Questo per me è inaccettabile e l'ho detto in tutti i modi. Non hanno voluto ascoltare, sono voluti andare avanti a colpi di maggioranza. Questo mi ricorda già un'altra esperienza simile fatta dal Comune di Piacenza che vendette le quote di Centro Padane indebolendo la rappresentazione del territorio piacentino dentro questa importantissima società che ha fatto opere in tutti questi anni e che proprio Piacenza, la Camera di Commercio, il Comendatore Gatti e gli enti locali hanno voluto in quegli anni.